Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati in un nuovo blog e niente, martedì è successo che ci siamo annoiati a morte perché non c'era nulla da fare in nuovo, abbiamo fatto le nostre solite commissioni tipo a fare spesa e cose del genere, siamo andati poi verso Sant'Ignazio e vabbè è andata bene e nulla, praticamente ammetto del fatto che questi giorni ci siamo annoiati a morte perché appunto non siamo a casa nostra quindi qua non c'è quasi nulla da andare a vedere quindi nulla di interessante, sì tra l'altro quello è un disegno che mi ha fatto mia cugina che è bravissima in confronto a me che sono con una schiappa a confronto e niente, praticamente come vedete la postazione non è di solite, non sono in camera né da nessuna parte, quindi nulla, praticamente vi confermo che non sono a casa mia ma sono a casa di mia zia che sì sto usando internet suo per recuperare i giorni che ho saltato i blog quindi mi informo che il 9 non ho fatto granché, sono rimasta a casa ad annoiarmi io vi saluto, ci vediamo tra poco con il video del 10 ciao 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 ciao